ok oggi c'è brutto tempo fuori e quindi la mia compagna, siamo in croatia, siamo andati ieri, che cosa ha deciso di fare per ovviare al fatto che sì siamo fuori però solitamente mangiamo al mare qualcosa mi ha proposto una cosa che forse, anzi ne sono pienamente convinto, neanche io avrei avuto un'idea di questo tipo, vi presento la genialata da manicomio criminale della mia compagna, ha deciso di fare un picnic per terra, queste sono le sue ciabattine, non vuole mai essere riprese almeno, almeno le sue ciabattine, il suo zaino, che dentro c'è tutto la corrente, questione, questione che dentro c'è tutto il suo corrente, guarda che roba, tracete, tracete, acqua, cose per le mie medicine e poi c'è anche da qualche parte adesso non riesco a vedere, un coso per tenere freddi i pomodori, adesso comunque lo faccio vedere, eccolo qua, questo qui praticamente è una comoda vaschetta da viaggio dove possiamo trovare un siberino che tiene in fresco le robe portatile, un altro che tiene in fresco le robe portatile, le posate blu forse per andare in pandan, un coltello che non taglia un cazzo, proprio niente, non taglia, e sotto, se riesco a capirlo, ecco, sotto ci sono i pomodori del nostro orto, belli rossi, gustosi, peccato che non ci sia un pochino d'aglio, però ci siamo già attrezzati, in chiesta signora che abbiamo già comprati, già comprato, e poi visto che non ci manca e non ci facciamo mai mancare niente, Falco, ha voglia anche lui e sente il profumo, stracata pizza, si aspetta Falco, ma cosa c'è lì Falco, no eh, no, cuccia Falco, Falco, ehi, qui, dai, su, Falco, Falco, seduto, vieni qui Falco, qui, qui Falco, no, no, dai, fai vedere che sei bravo, guarda, Falco, ehi, guarda Falco, seduto, ma bravo il mio amore bello, bravo il mio amore bello, tieni, si, dai, vai la, Falco, seduto, ma bravissimo il mio amore, bello, 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 bravo, bravo, siamo per terra in casa in appartamento, eh, con Falco che si guarda male e dice, ma che cazzo fanno questi? Ma, salute!